Ciao, sono Leonardo della Toscana e il mio sogno è diventare brand manager di una casa di moda. Invece la mia paura è quella di rimanere disoccupata. Se potessi parlare col grande dell'infanzia vorrei che cercassi di occuparsi meglio dei giovani e della loro possibilità di lavorare in Italia senza dover fuggire all'estero. Visto che i cervelli italiani non mancano, poi sono abbastanza patriotica.